sussurrò tra sé, carceriere ora ti conosco, per quante esistenze mi hai tenuto prigioniero nascita e morte, ma ora vedo il tuo vero volto ed ora in avanti non potrai più costituire e costruire altre prigioni attorno a me. Siddhartha alzò gli occhi, la stella del mattino si levava all'orizzonte, vivida come un diamante. Quante volte l'aveva guardata sedendo sotto l'albero di Pippala, ma ora era come se la vedesse per la prima volta. Aveva lo stesso bagliore, lo stesso sorriso trionfante dell'illuminazione. Siddhartha guardò la stella del mattino e colmo di compassione esclamò, tutti gli esseri hanno in sé il seme dell'illuminazione, eppure affoghiamo nell'oceano di nascita e morte per migliaia e migliaia di esistenze. Siddhartha capì di aver trovato la grande via, aveva raggiunto lo scopo, il suo cuore era in pace e in perfetto benessere. Ripensò agli anni di ricerca, colmi di delusioni e fatiche, ripensò al padre, alla madre, alla zia, a Yashodara, a Raul e agli amici. Rivide il palazzo, capilavattu, il popolo, il suo paese e tutti coloro che vivevano tra gli istenti e la povertà, specialmente i bambini. Si ripromise di trovare il modo per comunicare quanto aveva scoperto e aiutare gli altri a liberarsi dalla sofferenza. Dalla sua profonda conoscenza era nato un immenso amore per tutti gli esseri. Lungo il fiume, fiori dai vivaci colori si aprivano ai primi raggi del sole. Il sole danzava tra le foglie e scintillava sull'acqua. La sofferenza di Siddhartha era svanita e si rivelava la meraviglia della vita. Tutto assumeva un aspetto nuovo, che meraviglia i cieli azzurri e le nuvole bianche. Gli parve che lui e l'intero universo fossero stati appena creati. In quel momento giunse Svasti. Vedendo il giovane guardiano di bufali correndo gli incontro, Siddhartha sorrise, ma Svasti si fermò di colpo e lo fissò a bocca aperta. Svasti lo chiamò Siddhartha. Maestro, rispose il ragazzo. Svasti giunse le mani e si inchinò, fece alcuni passi davanti e si fermò di nuovo, guardandolo con soggezione. Confuso dal suo stesso comportamento, disse esitando. Maestro, come sembri diverso oggi. Siddhartha gli fece cenno di avvicinarsi. Lo prese tra le braccia e chiese. Che differenza vedi? È difficile esprimerlo, rispose il ragazzo, guardandolo bene. Sembri diverso, è come se tu fossi una stella. Siddhartha lo accarezzò sulla testa e disse. Davvero? Che cos'altro sembro? Sembri un fiore di loto che si è appena aperto. Sei come la luna sul picco Gaiashisha. Siddhartha lo guardò negli occhi. Svasti, tu sei un poeta. Ma dimmi, come mai così presto stamani? Dove hai lasciato i bufali? Svasti spiegò che aveva la giornata libera perché i bufali erano impegnati nell'aratura dei campi. Solo il vitello era rimasto nel recinto e Svasti non poteva fare altro che tagliare l'erba. La notte lui, le sorelle e il fratello erano stati svegliati dal rombo dei tuoni. La pioggia, entrando attraverso i buchi del tetto, aveva inzuppato i loro giacigli. Non avevano mai visto una bufera di tale violenza ed erano preoccupati per Siddhartha che sapevano nella foresta. Si erano stretti assieme fino a che la tempesta non fosse passata. Poi si erano addormentati. Allo spuntare del giorno Svasti era corso al recinto dei bufali. Aveva afferrato falcetto e pertica e si era precipitato in direzione della foresta per vedere come stava Siddhartha. Siddhartha gli prese la mano e disse oggi è il giorno più felice della mia vita. Se puoi nel pomeriggio raduna i ragazzi sotto il pippala. Non dimenticare di portare tuo fratello e le tue sorelle ma prima vai a tagliare l'erba per i bufali. Svasti corse via contento mentre Siddhartha percorreva a passi lenti la riva inondata di sole.